Buongiorno e benvenuti alla Zuppa di Porro, vediamo quali sono i temi principali della giornata. Ovviamente restano quelli politici, vi ricordo che questa sera c'è Matrix alle 23.30 e parleremo ovviamente di quello che succede nella formazione del governo, ma il primo appuntamento come tutti sapete è la presidenza della Camera e del Senato, al Senato basterebbe la maggioranza del centro-destra per poter eleggere un presidente senza chiedere favori a nessuno. E questo già poi forse vi dà un'idea alla fine banale di chi poi in fondo abbia vinto e abbia perso queste elezioni, l'unico movimento che riesce a eleggere un presidente di una Camera autonomamente è il centro-destra, però è del tutto evidente che essendo stato il primo partito, quello del Movimento 5 Stelle, oggi si parla solo di un governo a trazione Movimento 5 Stelle. Lo stesso Movimento 5 Stelle cosa fa oggi? Boccia l'idea del governo di tutti quanti insieme pur di arrivare a una soluzione, la cosiddetta accordo istituzionale. Su questo è molto interessante un'intervista fatta al Corriere della Sera a Franceschini, voi direte ma chi è e chi rappresenta una componente comunque del PD che dice una cosa che può essere stralunata ma anche interessante nella sua follia, dice siamo fortunati, adesso la metto semplice, perché non essendoci nessuna maggioranza si può fare un governo che si occupi soltanto di due cose, ridurre a due, cioè da due a uno le camere e questo sarebbe una cosa buona e giusta e tante volte l'abbiamo detto e spiegato e su questo siamo d'accordo e cambiare la legge elettorale. Quindi sostanzialmente non è un governo Movimento 5 Stelle, sarebbe semplicemente un governo per andare avanti qualche mese e che possa permettere di qualsiasi forma andrebbe bene. L'importante è che si facciano soltanto queste due cose e si cambi la legge elettorale, ma aggiunge Franceschini si potrebbe anche abolire una Camera. Nessuno ha maggior, dice, nessuno è nella condizione migliore che un governo senza maggioranza per fare tutto questo. Nel centrodestra nel frattempo c'è il gran casino, il fatto, cioè il giornale del Movimento 5 Stelle dice botte da orbi nel centrodestra, non ci va lontano perché obiettivamente ieri c'è stata una cortesia istituzionale di Salvini a presentarsi ad Arcore con la Meloni da Berlusconi, ma il perdente di questa elezione è chiaramente il Cavaliere che ha preso meno voti della Lega e quindi è interessante comunque alla fine che Salvini ha preso il mandato, ha avuto il mandato per trattare come Movimento 5 Stelle la Presidenza di Camera e Senato. I giornali oggi si interrogano chi potrebbero essere, Giorgetti oggi è in pole position per il Senato e per la Camera si parla di Toninelli o anche di Carelli. La Lega oggi sul fronte del centrodestra ha detto non vogliamo nessun accordo con il PD, sembrano invece un po' più disponibili con il Movimento 5 Stelle. Interessante l'analisi di Panebianco che dice tutto crolla con il Nazareno, perché cosa succede con il Nazareno? Il PD perde, il Renzi perde la possibilità di avere un alleato come Berlusconi per fare le riforme costituzionali e perde il referendum del 4 dicembre e dall'altra parte spinge Berlusconi verso gli estremisti. Obiettivamente la campagna elettorale fatta da Berlusconi sul referendum è stata disgustosa sul referendum, quello del 4 dicembre, perché era con Zagrebbeschi, con la sinistra più insopportabile, con tutti quei magistrati intellettuali alla page che sono il motivo per il quale quella sinistra non ci è mai piaciuta e invece Berlusconi ha fatto la campagna elettorale con loro per evitare che fosse approvato il referendum di Renzi. Insomma, in questo Panebianco è super condivisibile. Bello il pezzo oggi di Giannino che, come sul messaggero, che parla del reddito di cittadinanza, che vi ricordo per una famiglia di due persone con due figli sotto i 14 anni arriva a 1700 euro al mese. Chiaro? 1700 euro al mese. Secondo quello che dice il Movimento 5 Stelle, non Babbo Natale, dice tutti i dubbi che ha sul reddito di cittadinanza. Ve ne dico soltanto uno. Se questa famiglia viene considerata, secondo gli standard italiani e europei, povera, bisogna considerare l'affitto che paga all'interno del suo reddito disponibile? Cioè, se una famiglia ha 10.000 euro di reddito disponibile e ne spende 6.000 per l'affitto, questi 4.000, cioè la differenza tra quanto incassa e quanto spende per l'affitto, ti porta 4.000 euro. Quindi 4.000 euro sono il reddito disponibile vero o i 10.000 che sono all'ordo dell'affitto? Questo piccolo dettaglio, che aumenterebbe ovviamente il numero dei poveri, perché se togli l'affitto dal tuo reddito, ma l'affitto lo devi pagare perché sennò come vivi, se togli l'affitto dal tuo reddito aumenta il numero dei poveri secondo gli standard europei in Italia. Se aumenta così il numero dei poveri da sussidiare con il reddito di cittadinanza, arriveremo a 45 miliardi di costo. Poi tante altre analisi fa Giannino. Insomma, molto interessante anche perché Di Maio dice che il reddito di cittadinanza si farà e come. Sul reddito di cittadinanza vi segnalo alcune cose che mi avvengono, perché hanno ripubblicato uno mio scontro con Bonafede, che dovrebbe fare forse oggi il ministro della giustizia, che con quest'area saccente, e quella è la cosa che più mi ha fatto innervosire, dice c'è tutto scritto sul reddito di cittadinanza. No, non c'è tutto scritto! Ad esempio, caro Bonafede, non c'è scritto se nella soglia di povertà, secondo voi, c'è l'affitto o non l'affitto, come scrive oggi Giannino. Non ci sono scritte migliaia di altre cose! Non c'è scritto, ad esempio, che cosa succede, come puoi rifiutare un lavoro, perché sapete che se non devi essere interpellato dai centri dell'impiego, ti devono offrire tre lavori, pensate un po' quella follia. Ma comunque, la mia critica nei confronti di Bonafede e del del reddito di cittadinanza porta dei commenti sulla rete nelle mie pagine, ma queste vanno bene. Ma soprattutto alla mia posta privata vi leggo quello che mi scrive questo delinquente che si chiama Alberto Pantani. L'ho pubblicata anche qua su Facebook. Alberto Pantani mi scrive sei un servo sciocco. Vabbè, ma questa, insomma, l'idea che io possa essere un servo di Berlusconi o di Renzi, a seconda dei casi, non mi sembra una grande novità. Insomma, la puoi sopportare. Ti vorrei, e qui cambia, perché molti di questi mi scrivono questo messaggio, ti vorrei incontrare per darti due pizze. Cioè, lui mi vuole incontrare per darmi due schiaffi, due cazzotti, mi vuole fare del male. Cioè, mi vuole incontrare e mi vuole fare del male, perché io ho criticato il reddito di cittadinanza. Cazzaro, prima o poi capiterà. Cazzaro, prima o poi capiterà. Allora, io vorrei, caro Alberto Pantani, che adesso voglio vedere la foto, c'è la foto con questo, no? Un bel picchiatore, no? Il fascismo che ritorna. No, non è il fascismo, sono il grillismo che ritorna. Sei un servo sciocco, ti vorrei incontrare per darti due pizze. Cazzaro, prima o poi capiterà. Ecco, in un paese normale, questo troll, come lo chiama Michele, ma non è un troll, lo prende la polizia e lo prende per l'orecchio e gli dice, che cosa hai detto? Vuoi incontrare porro per dargli due pizze? Questa come la chiami? Una minaccia? Va bene. Servo sciocco va benissimo. Me lo possono dire. Il punto fondamentale è che quando si passa alle minacce, caro Di Maio, caro Di Battista, cara Lezzi, cara Toninelli, ecco, non basta che vi mettete il doppio petto, no? Perché sennò vi tratto come voi avete trattato casa Pound, no? Che sembra il ritorno del fascismo. A me nessun fascista mi ha scritto un messaggio come questo stronzo che mi ha scritto, va bene? Stronzo si può dire, si può dire, perché è un insulto, come dire per me servo sciocco. L'idea che mi vuole incontrare e darmi due pizze è una cosa straordinaria. Spero di incontrarlo e vedere se c'è un poliziotto per cui arrestarlo mentre mi dà due pizze. Si può fare? Va bene? E non dico altro perché è meglio che non dica altro in questo caso. Le donne elette? Altro pezzo oggi del Corriere della Sera. Innanzitutto non facciamo tanti piagnistei. Donne elette è il lato più alto di donne elette negli ultimi anni e siamo quasi al 40% come prevedeva il Rosatellum. Ma il punto vero, se le donne non sono elette non è colpa degli uomini, è colpa delle donne, chiaro? Sapete qual è il partito che ha meno donne elette? Si chiama Liberi Uguali. E sapete perché ha il minor numero di donne elette? Per un solo motivo. Che la Boldrini, la donna che vuole chiamare la Presidente, si è candidata in più circoscrizioni. Quindi essendosi candidata in più circoscrizioni al numero uno capolista non ha permesso ad altre donne di prendere il capolista e quindi di essere elette. Quindi non piangete del fatto che ci siano poche donne elette. Cara Boldrini, sono vostre furbizie che hanno fatto fuori le altre donne. Irresponsabile, qui c'è ragione Di Maio, Paduan, tu lo leggo oggi sui giornali, non puoi andare a Bruxelles e dire che il problema dell'Italia sarà, che non si capisce il governo, sputtanare l'Italia, come facevano quando governava Berlusconi, per altro quelli della sinistra. Io così come difendevo Berlusconi all'estero quando c'era lui al governo, difendo anche Di Maio, anche Di Maio che ha tra i suoi fan quello che mi scrive servo sciocco, ti vorrei incontrare per dare due cazzoni, o quest'altro, cos'altro scrive questo? Infatti, vabbè, insomma, li difendo perché comunque li attaccherò fino alla morte in Italia, ma non posso pensare che sia l'Europa a liberarmi da loro. Liberi idioti, dice Elisabetta, c'è ragione. Indagati contro, bellissimo il titolo del giornale sequestrata la solidarietà del Corriere della Sera e della Sette, che raccolgono dei soldi, in tre mesi fanno un centro polifunzionale a Norcia dove tutto è nel casino e i magistrati sequestrano e indagano Stefano Boeri, l'architetto che lo ha fatto, e non solo Stefano Boeri, ma il sindaco di Norcia, Alemanno, che non c'entra niente con Alemanno. Allora, in un paese in cui questi, in tre mesi, con i soldi vostri, fanno un centro polifunzionale, quindi non li buttano nel cesso questi soldi, solidarietà, efficienza, privati, Archistar che fa questa roba qua e gli rompono le palle perché dicono che quello non ha rispettato, non c'è il permesso a costruire, quindi in tre mesi questi hanno fatto Boeri, Alemanno, hanno fatto una specie di abuso edilizio. Vuol dire che siamo vittime delle nostre norme non avendo più il buonsenso. Ma veramente pensate che questi abbiano voluto fare un abuso edilizio? Ma potete pensare che nella zona terremotata fanno un centro polifunzionale per quando avvengono i prossimi terremoti, un centro in cui si possono incontrare i cittadini e rompete le palle, cari magistrati perché non sarà stata rispettata la norma, la cosa... Cioè il buonsenso, dove è finito? Il buonsenso non esiste più nella nostra magistratura. Tanti mi scrivono di voi, non insultandovi, ma raccontandomi che cosa è successo in quella sanzione delle norme antiriciclaggio, per cui se tu non scrivi non trasferibile su un assegno, rischi per un assegno da 2000 euro di pagare sanzioni da 6000. Questa è l'Italia. L'Italia per cui fai le leggi, onestà, 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 abusi edilizie, tutte queste minchiate qua e poi dopo nella concreta praticità di queste cose è un paese bloccato. È il paese dei magistrati, è il paese delle regole, è il paese delle norme. Il magistrato Zanon viene indagato, perpeculato perché presta l'auto di servizio della Corte Costituzionale alla moglie che chiama e dice senti voglio andare a Forte dei Marmi, dice guarda io non ho fatto nulla di male perché quella macchina era a mia disposizione. Caro, a tua disposizione se fai l'amministratore delegato di una società privata e utilizzi quella macchina per spostare tua moglie o è scritto nel contratto o gli azionisti ti possono prendere a calci nel sedere. Ma siccome questo è un giudice della Corte Costituzionale e evidentemente siccome quella macchina è pagata da noi con un carabiniere che fa l'autista e poi mi chiedo perché un carabiniere deve fare l'autista? Perché il carabiniere non deve stare a fare il carabiniere deve fare l'autista di un giudice costituzionale? Beh, questo è un altro discorso. Comunque questo Nicola Zanon sapete che dice la moglie consigliera del PD del comune di Milano utilizza questa auto per fare gli affari suoi, il giudice dice che non c'è peculato, un magistrato dice invece che c'è peculato, inizia il processo, ma inizia il dibattimento e anche il processo viene indagato, il giudice della Corte Costituzionale si dimette dalla Corte Costituzionale, cosa che abbiamo detto ieri è una stupidaggine, non si è dimesso perché la Corte Costituzionale all'unanimità decide che non si può dimettere. Allora il punto non è il fatto, il punto sapete qual è? Il trick e track, mi dimetto e quelli invece sanno che non mi dimetto, l'auto che viene usata dalla moglie che è l'auto che invece è la presidentessa dei comitati per il sì e referendum di Renzi contro gli sprechi della cosa pubblica e faceva i comitati del sì mentre usava la macchina della Corte Costituzionale che era data suo marito ma usava lei per andare a Forte dei Marmi. In questa roba qua poi alla fine è evidente che la gente non capisce più nulla e vota anche 5 stelle, chiaro? È evidente perché ti viene una rabbia incredibile, perché è tutto così, è il trick e track, io mi dimetto e quelli non ci stanno, va bene? Io non sono quasi mirode parlare di queste cose perché, come posso dire, quando penso che questo mi dice che mi vuole incontrare per dare due pizze e questo si indigna come me per il giudice della Corte Costituzionale, io sono diverso da lui, non posso pensare di pensarla come lui, però obiettivamente su queste cose ancora mi arrabbio. Scusatela, comunque su tutti i giornali oggi c'è questo racconto con pochi commenti. I giornali oggi aprono tutti quanti, pagina 2, pagina 3, il Corriere della Sera addirittura sul fatto che Trump caccia il suo ministro degli elsteri Tillerson, io questa è una storia straordinaria perché il Corriere della Sera quando fu nominato Tillerson, l'amico di Putin, il petroliere dell'Exxon Mobile, il miliardario, mi hanno spiegato che Tillerson era un disastro, un disastro. Oggi che Trump lo licenzia e mette al suo posto un Italo americano ex capo della CIA, invece mi spiegano quasi che peccato che se n'è andato via Tillerson. Eh, allora vi dovete mettere d'accordo, se il segretario di Stato era una merda quando l'aveva mandato Trump, adesso perché piangete che Trump lo fa fuori? Ma insomma, mi sembra un po', no? Mi avevano spiegato Rampini e compagnia cantante che questo Tillerson era un disastro, ma noi dovremmo essere contenti. Tra l'altro viene nominata al capo della CIA una donna, che era già il numero 2 della CIA, altra grande nomina fatta ieri. Dove sono tutti quanti i cantori, le donne, tutte quelle minchiate assurde, perché io non condivido il fatto che se una, che debba andare una donna a, se va una donna a, come possiamo dire, in un posto di potere necessariamente fa bene. Dipende che donna è, dipende che uomo è, può essere donna uomo, non è importante il sesso, il genere, è importante come si comporta. Ma sempre abbiamo visto articoli esse sulle donne che hanno potere, questo nomina per la prima volta Trump una donna a capo della CIA, sapete che cosa fanno? rompono i coglioni della donna perché dicono, lei è la spia del waterboarding, cioè cercano di trovare i nostri giornalisti, il fatto che la donna non era comunque, è una spia che tortura, è una spia che tortura. No, la CIA invece non torturano, non fanno le spie, la spia in genere è, vanno a raccogliere mazzurini di fiori, oggi su tutti quanti i giornali c'è la sua lotta agli giudiciadisti, ci raccontano la sua storia, tra l'altro molto divertente. Ultima questione, poi vi lascio veramente in pace, il Faranda style, l'epica della Faranda, oggi ci ritorna Ezio Mauro che sta facendo dei pezzi molto belli sul periodo delle Brigate Rosse e fa un'intervista di due pagine del Corriere della Sera alla Faranda in cui dice è stato un errore per le Brigate Rosse, rapire Moro, uccidere cinque persone, ma vedete il tono di queste interviste alla Faranda che è un'assassina, una complice di assassini in cui hanno preso e hanno sparato a freddo a un uomo che si chiama Aldomoro, così, pom, pam, sparato, erano in due pare, non soltanto un malucinato, hanno preso e hanno sparato, hanno preso e hanno fatto un commando e hanno ucciso cinque persone della scorta, cinque padri di famiglia, ma anche se fossero padri non di famiglia, hanno ammazzato cinque persone. Ecco, io leggere questa epica delle Brigate Rosse che hanno tutte le loro giustificazioni mi fa schifo, la Faranda deve marcire in galera dove è stata condannata per trent'anni, così come tutti i Brigatisti Rosi sono dei delinquenti normali, normali, non c'è nessuna epica, perché questo fatto della loro capacità di organizzarsi, pedinavano, prima cercavano Moro per capire se da perlo in chiesa, poi non lo rapiscono in chiesa, dice lei, perché lì forse avremmo potuto sparare nella folla, è perché dall'altra parte non sparavano nella folla viafani, non hanno ammazzato cinque persone, scusatemi là, cioè c'è come una giustificazione, una specie di epica santa di questo rapimento che è stato fatto con una gigantesca potenza militare, no, perché è la stessa cosa di una rapina, è la stessa cosa di un colpo in banca, solo che a differenza di quelli hanno ammazzato, hanno ammazzato e hanno ammazzato anche a freddo, perché qualcuno che ammazza a freddo, un leader politico dopo 50 giorni e dopo averlo segregato in una stanza e lo hanno ammazzato a freddo, sono delle bestie, chiaro? Bestie! Non fanno parte della convivenza civile e la galera serve a questo, per isolarli rispetto a noi, non esiste epica della faranda, anche se oggi tutti i giornali sembrano non ricordarselo. Bene, saluti, questa sera ci vediamo come sempre a Matrix alle 23.30 e vi do appuntamento anche ovviamente con 105 Matrix 19 su Radio 105, se vi piace questa rassegna condividetela, ciao! Grazie a tutti!